Dio boi siamo già due anche Piero Posso dire basta shulk eh? Posso dire basta shulk ma c'è Luca va bene Il problema è che Robby ha troppi capelli Ma la tag di Robby è Titti Titti Ma low? No eh So chi sia Ma è italiano perché mi sorge il dubbio Che sia uno degli outsider Ma è diventato un outsider Eh una cosa che è? Una shak 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 Curioso di Falco lo si vede meno In Italia Sinceramente non vedremo vederlo Blurralo Blurralo Tipo tipo porno giapponese Eh Comunque dai Falco in Italia E di basta Se ne sono Lurale Mi devo attaccare al microfono probabilmente Anche io sto attaccato al microfono E ce lo teniamo proprio in bocca Ma beh insomma perché questi sono dinamici So che stiamo attaccati Comunque come entriamo mentre l'indosco attacca qua Ma lo è... No Lo è di forte Ah è Veneto? Ok Ah ma ho capito che... Ammetto la mia ignoranza Ah ha cambiato tag Ah ok Ok Chi è? Ehm... 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 No no è brevino Un... Un... Ma che cazzo? Ma qua mi sa che rodi un po' dormito Non... Non lo so Non so quanto in shield tu possa fare In shield Tu possa fare SDI Perché C'ha tipo le proprietà strane Ma penso che le SDI non cambiano Vabbè è un multi È un multi Si Però le SDI Non so Se non cambia il peso Se non cambia il peso non dovrebbe cambiare niente Eh non mi ricordo se cambia il peso con shield Lasci il cambiato Ehm... Allora sì sì è diverso Comunque poteva anche esser tutto perché era... Eh guarda Bello Bravo tra l'altro Ha sfuggato Ha aspettato ha fatto quella pair Si 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 Poteva seguire con altro Ma c'era ancora shield Di conseguenza Esatto O ha guardato la barra Sta di fatto che si è adattato molto bene No 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 eh fai modo E questa la sto Eh quel pair Quel pair è veramente forte Però per fortuna ce lo fa solo il pair Vi hanno visto un counter Alla fine ci sta Un personaggio che fa le cazzo in combo Si effettivamente Adesso hai in shield e dici no Questa non la puoi fare Questa non mi piace Questa non mi piace Bello bello il refletto Beh Eh si Anche recuperare Forse recuperare è più difficile che qua Si Eh questo penso fosse true Si si Ma comunque è molto bravo Molto bravo comunque Lo... non so neanche come si pronuncia la sua taglia Lo... è tedesco? Io penso sia tedesco È tipo quei dittonghi che si pronuncia O E non è un dittongo in tedesco No? No Secondo me si È la tua opinione contro la mia No i dittonghi sono A E E U E I Ho studiato È la tua opinione contro la mia È la tua opinione Siamo in una democrazia Ma io posso dire quello che voglio Comunque è molto molto bravo Il cielo è verde Lo si vede che ha studiato Ah si Si vede che ha studiato Comunque le bracket Uno le poteva visionare prima Quindi si sta anche come discorso Che un giocatore si prepari in matchup Ma infatti si vede che si è preparato Perché comunque Almeno quando Shulka shield E questo qua è anche Falco Che è avvantaggiato in queste situazioni Per toglierglielo Più hit fai e più discende la barra Si fai multi hit quindi Cioè invece che magari fare un Jair Esatto Lui preferisce fare Un multi hit certo Aaaaaaah Mamma mia come è scoppiato Si Ah quanto era? Era Beh era C'era 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 Si poi vabbè Eravamo su town Quindi Shulk Esatto Infatti non so di chi è stato il pick Però Non lo so Io town contro Shulk Di solito la banno A meno che Ma infatti ero stupito Comunque quando ho visto il pick Per lo stesso motivo fondamentalmente C'era dire che Cioè Shulk Generalmente Uccide più dal lato che in alto Si Quindi c'è Non è Anzi con Falco Non è neanche buono Allora potrebbe aver voluto scegliere uno stage con Bello largo Forse li aveva bannati tutti gli altri piatti Si probabilmente Magari ho scelto uno stage bello largo comunque per estendere le combo di Falco Si per tenere il suo spacing Esatto Esatto Però comunque ultimamente Su uno stage come Boh Probabilmente Kalos era stata bannata Kalos sicuro bannata ma anche FD Si probabilmente si e questo è strano perché di solito quando banni FD Banni anche town Tendenza O almeno con me così Vabbè Shulk Bannerei Kalos Oddio Crashato Ale Bravi tutti Bravi tutti Qualcuno sta giocando Oltrezzare Cosa è successo? Ma che io non l'ho mai vista sta schermata credo Nella mia vita Oh grande Metal Slug Mi dò partitino a Metal Slug? Nel frattempo ci sta secondo me Però Qualcuno sta giocando a Pokemon Scarlato Mi sa che è crashato così Si basta che ci sia una switch nell'intera Nella venue con dentro installato E tutte le volte che già arriva tipo un errore fatale a Pokemon Scarlato una switch a caso crash E' l'unico modo che ha trovato di non far crashare il gioco Cioè praticamente diventano degli Horcrux dove invece che prendersi tutto il male uno Diviscono sparano alle altre console connesse Bel gioco No No e io sono fan Ma no No e io odio Pokemon No e io odio Pokemon Non si sente un cazzo Ah però prima Salutiamo il nostro amico Piero Salutiamo il nostro amico Piero Troppo per sfortunate Mi dispiace Ma veramente tanto guarda Molto Non so come Non dispiace Per me se vai vedere sulla switch sta giocando a Pokemon Sta giocando a Pokemon Stava facendo shiny Shiny anti Mi sicuro 100% Preparato al masterclass Ma infatti secondo me non ha neanche il covid in realtà No non voleva venire Non voleva venire Ha detto io Mi tengo il mio PR spot L'unica L'unica win su di me è la brancola E basta E basta E basta Questi da un tilt Ormai Dovrebbe averlo capito Che brutto Quello Brutto sì Infatti Roby prontissimo a coprirlo Non ha continuato dalla pair Ehm Complici una di ai Magari che non si aspettava dopo Posit Bellissimi che Leapbox della Della spada Non ha clancato praticamente contro il save di Falcon E ha fatto quell'effetto stranissimo Bel gioco Bel gioco Aspettiamo La paz La prossima paz Sì sì Ma andiamo diretti a smash Sì sì Wow Poco furbo Sì E poi forse No poco furbo Poco attento Magari poteva fare un abbia angolato Che ha un timing diverso Roby sta giocando tantissimo con lo shield Tantissimo Ah è un'opzione fortissima Sì 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 Soprattutto con un personaggio che Insomma Dipende sulle combo Esatto Con un falco Esatto Lo è Qua lo vedo un po' più Un po' più scomposto di prima Ma forse anche Roby che Ecco subito Roby anche sicuramente ci è adottato Cosa faresti da se fossi falco? Vincerei Ok No troppo direttamente Direttamente Ok Bene Detto questo Nel caso ipotetico che tu non posso switchare E ma io Cioè io Io sono falco Sto usando falco No tu stai usando falco E ti trovi contro uno shoot e ti fa shield Come lo Con grab A me l'unica cosa che verrebbe in mente sono le grab Eh sì ma Alla fine Si Fai pam Fai magari A pro up un air che sicuro funziona Una base percentuali no con shield Bello quel down air Che non ha portato molto anche perché aveva shield Ma poi sempre strano il rimbalzo che è proprio una questione fisicità del personaggio Non ti aspetti mai dove posso andare Qua ha molto spaventato Forse Oh Bella Nulla Nulla hai detto Shulk Shulk Ovviamente smash ok Forse era detto Forse era adesso Però Però comunque Non lo so Perché stavo per dire Però qualche personaggio che non ha problemi ad arrancare danno Molto evoluzionamente Però d'altro canto D'altro canto Quello che dicevamo fino adesso Shulk Cosa fai Cosa fai Non lo so secondo me La Neanche un'incognita È la più grande Beh è uscito Ok lei lo prende L'ultimo hit Il più grande problema di questo matchup Eh Stava come idea Non sarebbe mai morto No con jump Poi attivano Drag down Ah non riesce ad entrare ancora Ok Bella sta grab Stai iniziando un bear Sì Ancora una volta con queste tilt Eh Fair Vabbè Ha voluto Non fa male la gore È vecchio chi lo dice Ma sembra di aver chiamato Urlato come un animale Non è che quello Urlato No lo so Bello quella bridge Pikachu Up smash ha un secondo di più Non si sa stocco Sì 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 era stocco Assolutamente sì Che paura Che paura Che paura Robby Aia non è abbastanza ancora Non è abbastanza ma siamo sempre in quella situazione lì Adesso ok vuole buttare su un po' di danno e invece lo prende Ah non ha chiuso però con il launcher Quindi ha fatto Meno danno Smash Come è andato in tumble Cos'è che è andato in tumble Faire Ah wow Eh sì Niente art niente Row Fsmash C'è la porta a casa così Secondo game con Robby E questo quindi è Top 64 qualifier No beh Sei win round 2 Ah è da round 3 Sì erano 3 qualifier Questo è qualifier per il qualifier Giusto Se sei molto bravo ti qualifichi due volte E di nuovo su town Questo è un pick Lo sappiamo Che cavolo può aver bannato Non lo so Ma non capisco Anche se avesse bannato C'è cosa Dove non vuoi andare contro Shulk Non vuoi andare sugli stage Boh io personalmente non voglio andare Stretti Sì Voglio andare magari sullo stage con le blast on larga C'è il ceiling stretto Vedi ps2 Vedi hollo Anche se avesse bannato tutti questi 3 Cioè Che se vanno questi 3 controfalto non Yoshi e Battlefield C'è un problema E infatti secondo me hollo sarebbe stata una scelta Sì ma Il migliore Sicuramente molti stage sarebbero stati meglio di Perché come so Perché è un smash Ah per uscire dalle combo Ok Ha senso A trade Con trade Cos'ha tridato Secondo it Di da un anno No No Tra l'altro allo profanato il back it Della Forse è un po' Vedi continuo con questo Ma prima line di sapato Fatto anche grazie Si dovrebbe dovrebbe grabare di più secondo me Certo è che shulk non sta mai fermo quindi non è proprio il personaggio più facile da grabare E ha sempre hit Ha sempre una hitbox attiva Sì Eccoci morto Ha bafferato forse Ancora ci si ritrova Non è morto Quello che dicevo prima Perché vorresti portare Cioè È il contrario Di quello che vuole shulk fondamentalmente Perché tu come falco ammazzi dall'alto In più delle volte Quello che vuole shulk Succede presto all'alto Esatto Ma anche se uccidesce dopo dall'alto Cioè smesso No tra l'altro Cioè Non l'ho molto capita questo Sì Adesso non commette Adesso uscito Non so se L'invulnerabilità Però non è frame 1 l'invulnerabilità del coso Del dial Eh sì che è frame 1 È frame 1 Eh sì Ma te dici la selezione nella will Sì non è frame 1 l'invulnerabilità Non mi ricordo Non mi ricordo E' rare grab E' rare grab Un po' Un po' Un po' Gridi vuole chiudere la stock Sì Il più in fretta Posso capirlo Posso capirlo Vuole chiudere la stock Il più in fretta possibile E diciamo che c'è E ma Cioè adesso kill percent Uh Non era stock Però Era Non muore ancora Riesce a mettere shield Beh Non ha influito Però comunque per recuperare Aiuta Blue profilato Non avrebbe mai ucciso Perché ricordo il shield Eh ancora una volta Come la stock 1 Non puoi prendere la legge Così imprevedibili No Eh a tilt ancora non è abbastanza No Qua dovresti fare C'ha già qualche Non ha manche Qualche trou Non so se avete il trou Ah A pair friend A pair friend 126 con jump Si si Tra l'altro 15 Se non muore di più d'anno 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 Questa cosa va a far seccare L'unica cosa che non devi fare è grabbare Si 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 no Se mi grabbi Perdo la stock Mi curi mi curi Mi curi Oh bella gratta Dopo il fair Bene Non si è girato Non si è girato Poteva provare un air Secondo è piuttosto che andare per il graffero Non si è girato Non si è girato Sì Bellissimo fair di nuovo Plaza che va vuoto Ah L'avevo aspettato perché non l'ha fatto anche prima questa cosa Però comunque non si è girato Però non si Ecco lì poteva draccare Prova a coprire Re grab Uh bella roba per evitare il gatto contact Peccato che non punisce Forse era meglio scudare Questa in sostanza avrebbe pure preso stock facile Sì Up smash Ah madonna è vero Per up smash non è stato abbastanza veloce Bellissimo stavolta lo intercetta Sì Eccoci È morto 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 Va bene Va bene Adesso Non so se Ah 114 ha fatto 30 di danno Con due mosse No? E invece sì Forse una di hai anche non proprio però sarebbe morto Lo stesso Non poteva fare niente lì Non doveva trovarci in quella situazione a più fin Sì Non doveva andare su quella piatta lì è stato Ma più che altro Non doveva andare su town Non doveva andare su town